Vacanze a Ferragosto, un lusso quasi di questi tempi, è così Bari complice e la crisi rimane tutt'altro che deserta. Certo in centro non c'è il traffico degli orari di punta ma sono più negozi aperti di quelli chiusi per ferie e in Viesparano e in Corso Cavour c'è un discreto via vai di persone. Si lavora a Ferragosto? Sì, per quanto riguarda la nostra attività sì, sono tanti anni che non chiudo per ferie. Ferragosto a Bari? Sì, sì. Come mai? Pochi soldi. Non lo so forse da nessuna parte, non lo so ancora. Come mai? Perché non è un giorno molto particolare, certo è vacanza. Inevitabilmente le spiagge cittadine sono affollate. Le vacanze quest'anno? Bene, bene. Le fate qui a Bari? Sì, sì, a Bari. Come mai? Non abbiamo soldi. Si è molto male perché i soldi ci vogliono i soldi, perché senza soldi ci vogliono i vacanze, fatelo caro, perché tutti ci vogliono i soldi. E dunque mancano i soldi. Ci mancano l'euro.